L'amministrazione comunale si impegnerà ad interessarsi della causa intentata dal comune di Alghero contro Raffael Caria, al fine di cercare di chiudere nel miglior modo possibile la questione. Questo è il punto d'incontro tra maggioranza ed opposizione trovato nella seduta di martedì. Il documento originario, illustrato dal primo firmatario Valdo di Nolfo, era stato bollato dal sindaco Tedde come strumentalizzazione politica di una morte. Il primo cittadino aveva quindi sottolineato come il consiglio comunale non avesse legislativamente potere di chiudere una causa, ricordando oltretutto come non fosse la sua amministrazione ad averla intentata. Il suo intervento era stato qualificato come meschino da di Nolfo, che non pensava se rivasse a questo. Dopo un lungo conciliabolo in aula, i consiglieri hanno quindi finito per approvare all'unanimità il documento corretto.